Il progetto Napoli Nord L'evento Lo Sport mi ha salvato la vita si svolgerà nel complesso sportivo Fritz Dennerlein, sito in via Repubbliche Marinarie di Barra e si articolerà secondo un ricco programma che darà spazio a varie espressioni sportive e artistiche a cui partecipano 10 istituti tra scuole elementari e medie. Rispettando le regole nello sport si rispettano automaticamente le regole della vita quotidiana in ufficio, nelle fabbriche, a scuola e via dicendo. Quindi ricordatevi queste norme che sono fondamentali e poi in bocca al lupo per il vostro futuro. So che molti sperano di fare i calciatori ma non sono tanti quelli che ci riescono, sono molti quelli che cominciano. Però ci sono anche tante attività nella vita che si possono svolgere e possono essere altrettanto soddisfacenti. Quindi in bocca al lupo anche per le altre manifestazioni che dovrete affrontare e per il vostro futuro. Ciao a tutti.